Eccomi qui, buongiorno, ben arrivati. Dovevo rispondere a Pompea che mi aveva chiesto un po' di prove sulla nostra gommalacca che è il Look Pro. Ciao Marisa, un bacio. Innanzitutto, il Look Pro. Il Look Pro è una gommalacca, presente l'abbiamo in due formati, in formato liquido ed è, eccola qui, qua, oppure in formato spray, 100-400 ml. Mi sembra che adesso sia rimasto soltanto il 400 ml, tra l'altro in offerta, se dovesse interessarvi. Cos'è la gommalacca? Io ho la buona abitudine, ciao Natascia, un bacio, ho la buona abitudine di, quando eseguo un lavoro, un topper, comunque di sprayare un po' di gommalacca sopra il lavoro. Questo perché? Perché la gommalacca ha una duplice funzione, cioè se voi la sprayate da lontano poco, che cosa succede? Che la gommalacca vi dà un rivestimento sulla pasta di zucchero, migliorando la sua resistenza in termini di mantenimento del colore e di resistenza all'umidità. Perché? Perché la gommalacca praticamente crea una sorta di film impermeabile. Se vi ricordate, un po' di tempo fa, tra l'altro l'ho pubblicato anche sul nostro canale YouTube Bimagenta, vi avevo fatto una diretta con l'utilizzo dell'aerografo e avevamo fatto delle fiamme. A fine, diciamo, demo, io avevo spraiato il look pro sul lavoro per renderlo bello lucido. Successivamente, che cosa avevo fatto? Con una spugnetta, era andata a strizzare dell'acqua sopra il lavoro e avevo ripulito. E vi avevo fatto vedere come il lavoro sotto non si era minimamente rovinato, ok? Nonostante io avessi messo dell'acqua sulla pasta di zucchero. Questo proprio perché? Perché la gommalacca vi crea una superficie impermeabile. Voglio però dirvi una cosa, perché sicuramente già vedo i vostri capelli ritti, cioè, ma come? Allora cosa andiamo a mettere sulla torta? Che cos'è la gommalacca? Allora, la gommalacca non è che deriva da qualcosa, è proprio una sostanza presente in natura. Viene, diciamo, prodotta da degli insetti, ora non mi ricordo il nome, precisamente degli insetti, che producono queste scaglie, ok? Di gommalacca. Quindi la gommalacca è un prodotto al 100% naturale, al 100% commestibile. Quindi non è un prodotto, diciamo, creato o quant'altro. Esiste proprio in natura la gommalacca. Nel nostro caso poi viene disciolta in etanolo, quindi in alcol, perché altrimenti la gommalacca si presenterebbe solida, ok? E' anche un po' appiccicosa. La nostra gommalacca, in particolar modo, comunque è certificata gluten free, azofree, Quindi non avete, ribadisco, nessun problema ad utilizzarlo, neanche laddove dobbiate fare delle torte per bambini o comunque situazioni in cui cercate di essere un pochino più, diciamo, più attenti. Quindi, appunto, cosa vi dicevo, la gommalacca è un prodotto naturale al 100% e al 100% commestibile. E' in odore, è in sapore e basta, ok? Come la possiamo utilizzare? Potete utilizzarla in tantissimi modi. Quindi, io, ad esempio, feci tempo fa una torta di un ballerino di tango, rivestì la base con pasta di zucchero rossa e volevo che quella pasta di zucchero fosse lucida. Quindi che cosa feci? Presi la dammi, la rivestì e poi con lo spray andai a spraiare. La cosa importante qual è? Che se voi volete un effetto molto lucido, il mio consiglio è quello di non andare a sprayare insistentemente sulla pasta di zucchero. Cioè, fate più sprayate, ravvicinate. Quindi, date una prima spruzzata. Aspettate qualche secondo che la gommalacca si asciughi, ribadisco, essendo a base alcol, asciuga molto velocemente. Quindi, sono sufficienti veramente 20-30 secondi. Aspettate un minuto, se volete essere sicure, però non vi preoccupate. Dopodiché andate a sprayare nuovamente, vi fermate, aspettate che asciughi e andate avanti così fino a che non avete ottenuto l'effetto desiderato. Solitamente, però, avere un effetto veramente lucido, con tre o quattro sprayate siete a posto. Al contrario, c'è il Lucopro liquido. Il Lucopro liquido, ci tengo a precisarlo, noi lo abbiamo fatto levare dall'etichetta come indicazione. Io sconsiglio vivamente, lo urlo e alzo le mani al cielo, per favore, non mettetelo nell'aerografo a patto che non abbiate una certa dimestichezza, una certa capacità di utilizzo. Perché? Perché la gommalacca asciuga molto velocemente ed essendo gommalacca, crea, diventa una sorta di colla. Quindi, che cosa succede? Se voi lo mettete nell'aerografo, magari poi vi perdete secca e la penna non la recuperate più, ok? Perché praticamente l'ago si incolla e quando andate a tirare indietro, non si, come si dice, l'ago non torna indietro e non fa passare il colore. Quindi, mi raccomando, non utilizzatelo con l'aerografo. O meglio, potete farlo, ma a vostro rischio e pericolo, ok? Quindi, qual è l'utilizzo per questo prodotto? L'utilizzo per questo prodotto è sicuramente un utilizzo a pennello, dove, laddove voi dobbiate andare a rendere lucida, una parte molto circoscritta. Ad esempio, l'utilizzo più classico che faccio io è sugli occhi, ok? Se voi vedete, gli occhi hanno il riflesso della luce, ok? Perché? Perché io ho messo la gomma lacca e quindi praticamente a seconda di come io muovo, vedete, la testa, la luce riflette in un modo piuttosto che nell'altro e quindi mi dà un effetto estremamente realistico, estremamente naturale. Lo utilizzo sempre anche sugli occhi, sulle labbra, quindi su tutte quelle parti che voglio che risultino leggermente più lucide. Ma, ad esempio, potete utilizzarlo se dovete fare un effetto acqua. Ad esempio, io tempo fa feci una dummy con una ragazza in una tinozza d'acqua e l'acqua intorno, cioè diciamo sulla superficie, l'avevo tutta spennellata con la gomma lacca. Perché non l'ho usata spray? Perché ovviamente se la situazione è, come si dice, circoscritta, andando a sprayare, il rischio è quello poi che si vada a rendere lucide anche parti che non vogliamo che siano lucide. Quindi, detto questo, volevo farvi un paio di esempi. Quindi vi ribalto, vi faccio vedere la gomma lacca, la faccio vedere anche sull'isomalto, come mi aveva chiesto la Pompea.